Buongiorno a tutti amici e amiche, bentrovati e bentornati nella mia cucina di campagna. Come vi avevo promesso la scorsa settimana, volevo lasciarvi la ricetta di un gnocco al latte. È un gnocco, una focaccia sofficissima, veramente buona, ha un sapore incredibile, in realtà è fatta di pochi ingredienti, con una procedura semplicissima. E quindi visto che noi siamo finalmente usciti dal tunnel della quarantena, la nostra vita sta riprendendo i ritmi soliti, ai bambini servono le merende a scuola. Io ho finito la mia scorta di gnocco focaccia che solitamente tengo in freezer e quindi oggi li devo preparare un pochino. E ho pensato di condividere la ricetta con voi. Appunto questo impasto, insomma, non è un impasto grandissimo, più o meno per una ruolina tonda, dopo vi farò vedere comunque. Però se dovesse avanzare potete appunto tagliarlo a fettine e metterlo in freezer, conservarlo così. Al momento in cui lo vorrete mangiare, insomma, basterà prenderlo fuori un po' prima o scaldarlo un po'. Io oltre lo scaldo anche col grill del forno, qualche minuto, insomma. Allora, io direi di iniziare a impastare. Io impasterò con il Kenwood, con la planetaria. Voi potete impastare con qualsiasi impastatrice, bimbi, frullino con le fruste per impastare, non quelle per montare. Quelle, diciamo, fatte a spirale. Quelle sono le fruste per l'impasto. Però potete anche impastare a mano su una spianatoia, quindi mettendo al centro la farina e poi tutti gli altri ingredienti come un qualsiasi altro impasto. Quindi, insomma, io vi farò vedere come procedo. Ci sarà un momento in cui lasceremo l'impasto qui a lievitare e poi dopo invece lo sistemeremo nella teglia per la seconda lievitazione e poi procederemo alla cottura. Quindi iniziamo e così intanto facciamo due chiacchiere. Sistemo la videocamera. Eccomi qui. Allora, nel boccale, insomma, nel contenitore della mia planetaria ho già inserito la farina. Io ho fatto 350 grammi di farina mettendone 300, 0 e 50 integrale. Voi veramente potete usare una 0, una semi integrale, un integrale, una farina a vostro piacimento. Ovviamente, come già vi ho detto in altri video, la farina a 0 lascia una consistenza agli impasti più, diciamo, soffice, più morbida. Farine di grani antichi o farina integrale, insomma, ovviamente non hanno proprio questa, diciamo, questa riuscita. Anche se, da un punto di vista nutrizionale, sono sicuramente da preferire. Visto che in famiglia, soprattutto ultimamente, pare che la farina integrale non venga molto apprezzata dai miei figli e dal mio marito, ho deciso di, anche quando utilizzo la 0, magari di, diciamo, togliamo un pugnetto e lo aggiungiamo di farina integrale. È sempre meglio di niente. Quindi, insomma, mettiamo la farina. Ah, lascerò, come sempre, la lista degli ingredienti nel primo commento in evidenza. E poi aggiungiamo un pizzico di sale. In realtà sono 6 grammi di sale. Io metto già il sale all'interno, si vado a occhio sui 6 grammi, anche perché mi si è rotta la mia bilancina elettronica ed è un assolutamente, ne ho un'altra, ma è senza, senza pile, senza batterie. Come, sono proprio sfornita di bilance. Ecco, quindi io il sale l'ho mischiato alla farina, in modo che poi non venga a contatto con il lievito, perché in questa ricetta useremo del semplicissimo lievito di birra. Poi, in questo pentolino ho già scaldato 200 ml di latte. Io ho usato un latte intero di quelli che prendo, il latte che prendo al distributore, molto buono, molto corposo. All'interno di questo pentolino andrò a sciogliere 5 grammi di lievito di birra fresco. Questo, in cubetti. Lo sbricioliamo e aggiungiamo anche un cucchiaino di zucchero bianco. Potete anche decidere di aggiungere un cucchiaino di miele. Io solitamente vi dico che metto il miele. Adesso sto seguendo proprio la ricetta, la lettera, quindi mescolate, fate un po' sciogliere il lievito e lo zucchero. Il latte, mi raccomando, deve essere più a temperatura ambiente che tiepido. Insomma, né freddo né caldo. In mio, in realtà, è un po' freschetto. Non sono stata bravissima, non l'ho scaldato benino, benino. Speriamo non faccia danni. Quindi, che voi abbiate la farina qui o che ce l'abbiate nella spianatoria, al centro, facciamo un buchetto e andiamo a mettere il latte, facendo attenzione di rascendere anche il lievito e lo zucchero, che anche se si sciolte, tenderà a rimanere sul fondo. Ok, a questo punto manca soltanto l'ultimo ingrediente, cioè l'olio extravergine di oliva. Ce ne vanno tre cucchiai. Io li ho messi qui e vado ad aggiungerli a tutto il resto. Bene, adesso passo alla planetaria. Eccoci qui, ho montato il gancio, scusate non ve l'ho fatto vedere. Questo, il gancio per impastare. Cominciamo con una velocità bassa. Un po' all'uno. Io lascerò andare fino a che l'impatto non sarà tutto ben amalgamato, arrivando a velocità 2. Allora, eccoci qui, l'impasto si è ben incordato al gancio, è pronto. Adesso lo mettiamo sulla spianatoia, lo maneggio un attimo, lo manipolo un attimo e poi lo metterò a riposare un pochino. Ecco, sopra questa focaccia morbida, una volta che sarà ben lievitato e lo avremo steso nella teglia, Io oggi metterò un filo d'olio d'oliva e un sale aromatizzato, che qui nella zona del bolognese dove abito io, lo chiamiamo saldo d'ori. Era il sale che faceva anche la mia nonna quando ero piccola. È un sale che si prepara mettendo lo smarino, salvia e aglio. Io dopo vi farò vedere il mio barattolone. Guardate, vorrei proprio farvi sentire il profumo perché è qualcosa di irresistibile. Si può usare anche per gli arrosti, insomma per la carne. Io lo utilizzo proprio anche sopra alla focaccia, al gnocco, insomma metto un filo d'olio e un po' di questo sale aromatizzato. Però soprattutto in estate quando abbiamo a disposizione i pomodorini, la cipolla di tropea, ma anche le zucchine, insomma si può appunto farcire con la verdura. Proprio mettendo sopra i pomodorini tagliati a spicchi o la cipolla, fettine, insomma le zucchine, le melanzane, quello che abbiamo va da sé che insomma adesso a febbraio non abbiamo a disposizione tutto questo. In realtà la verdura essiccata ce l'ho, ma non la utilizzerò da mettere sopra la focaccia, insomma. Ecco qui, questo è il nostro panettino, come vedete è un impasto piccolino, proprio per una ruolina piccola. È già molto soffice così, io adesso lo metterò a riposare in una teglia coperta con una tortiera, insomma userò la tortiera da coperchio, ma potete metterla a pellicola, insomma un canovaccio, quello che volete. Lo lascerò a riposare una mezz'ora e poi procederò a metterlo nella teglia, ma lo faremo insieme. Eccoci qui, è passata una mezz'ora, quindi procediamo a metterlo in pasto nella nostra teglietta. Allora io userò una di queste di alluminio, come vedete è già un po' ammaccata, ma perché io ne avevo in casa e le sto utilizzando proprio all'inverosimile. E' un materiale che non va usato e gettato, anche se nasce con questo scopo, ma insomma a volte può essere comodo se magari dobbiamo portare una torta, regalare una torta, un impasto a qualcuno, però una volta che le abbiamo in casa queste cerchiamo di utilizzare il più possibile. Però io spesso uso questa, semplicemente quella da crostata, né più né meno, quindi insomma vedete un pochino voi quello che avete in casa. Io ho bagnato questa ruolina d'alluminio con dell'acqua e adesso vi spiegherò perché. Quindi prendiamo un pezzetto di carta a forno, io faccio così, tagliamo, pieghiamo la carta, in questo modo, poi così, eccoci qua. A questo punto, quando la carta a forno ha questa forma, taglio un pochino i bordi e aprendola, ecco che avrò la carta giusta giusta per la mia teglia. Allora, facciamo così che sposto un attimo il tagliere, così vi faccio vedere per benino. Quindi, la teglia è umida, è bagnata, la carta a forno aderirà in questo modo un po' di più, essendo sotto appunto bagnato. Vado a mettere un filo d'olio, così al centro, lo staglio con la mano, così. La carta a forno tenderà a muoversi, insomma voi cercate di dare un po' la forma e di tenerla a bada. Prendiamo il nostro impasto dalla teglia, che bello, soffice. Lo mettiamo al centro e con le mani, senza tagliere, scusate mattarello o quant'altro, con le mani andiamo a stenderlo in questo modo, fino a farli coprire tutta la superficie della nostra teglietta. Così, cerchiamo di renderlo abbastanza uniforme. Ecco qua, è già fatto. È sofficissimo questo impasto, quindi vedrete che anche da stendere sarà proprio maneggevole. Sarà un gioco da ragazzi fare questa focaccia morbida. Ecco qua, questo è il risultato. Io lo lascerò a lievitare in forno, a forno spento. E quando sarà lievitato, ce ne accorgeremo perché sarà più o meno raddoppiato di volume, avrà un aspetto proprio molto molto soffice. Andremo a mettere sopra, come vi dicevo, un filo d'olio e, nel mio caso, questo famoso saldo d'odori. Questo è un sale, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, con salvia, rosmarino e aglio. È un sale grosso, si può fare anche con il sale fino, quindi ne spargerò un pochino sopra e il gioco sarà fatto. Quindi noi ci rivediamo al momento di condire la focaccia, poco prima di metterla in forno. Nel frattempo però pensavo di, così, come dire, di anticipare magari un attimo il nostro momento della lettura. Ho ricevuto, adesso mi siedo così mi vedete, in regalo, ecco, scusate, ho fatto un danno terribile. Ho ricevuto in regalo dalla mia mamma qualche giorno fa, aspettate che mi pulisco le mani che sono ancora un po' vunte, questo libricino, se lo vedete, si chiama Pensieri belli per anime delicate. È della Baldo, aspettate, le edizioni del Baldo, di cui ho già anche dei libricini di ricette, ed è molto carino perché per ogni giorno, ci sono 365 giorni di Pensieri belli per anime delicate, ogni giorno c'è una frase, un pensiero su cui riflettere un po'. Questa è quella del primo di febbraio, oggi è il primo di febbraio, la data è scritta sotto, e dice Regala a te stessa un tuffo tra le pagine della fantasia e un volo in mezzo a pensieri leggeri. Allora la tua corsa si farà danza lieve, capace di condurti a istanti di magia. SG. Questa è la firma dell'autore. E che dire? Parla di fantasia, pensieri leggeri e magia. Mai come in questo periodo, queste parole sembrano fatte per me, perché proprio qualche giorno fa riflettevo sul fatto che ho necessità proprio di staccare completamente i pensieri, cioè di avere, di crearmi dei momenti in cui proprio non pensare, anche se capisco che apparentemente non pensare può sembrare una cosa impossibile. Ma invece credo che sia un esercizio quasi utile da fare, cioè avere dei momenti in cui proprio sforzarsi di non pensare a nulla, o comunque non magari a quelle cose che in un determinato momento della vita possono un po' darci da fare. E tra l'altro qui si parla anche di una cosa molto importante, cioè la fantasia. In questi momenti in cui si cercano un attimo pensieri leggeri, effettivamente la fantasia e i lavori manuali fanno la loro parte. Cioè io trovo che la manualità, che può essere cucinare o fare i ferri all'uncinetto, dipingere, disegnare, colorare, insomma, lavorare il legno, lavorare di qualsiasi tipo di materiale, probabilmente anche fare comunque il giardinaggio, l'orto, tutto ciò che fa muovere le nostre mani, in un certo senso ci regala leggerezza. Almeno a me succede così. Molto spesso, nei momenti bui o di difficoltà, ricerco proprio la manualità. E tutto questo appunto riconduce alla magia. Cioè a me viene da pensare un po' a quei momenti in cui si è immersi totalmente in qualcosa e si viene proprio avvolti. Non so se voi avete mai avuto questa sensazione. A me non di frequente purtroppo, ma capita di sentirmi completamente immersi in qualcosa al punto da avere la percezione quasi di essere altrove, cioè in un mondo parallelo. E credo che sia quello che capita un po' ai bambini quando giocano. Quando giocano molto concentrati, molto immedesimati in qualcosa. A me capita di aver visto anche i miei figli, nell'atto del disegno, della pittura, lasciare andare la mandibola, cioè di trovarli con la bocca quasi aperta, proprio rilassati, completamente abbandonati. Credo che sia un po' questo lo stato di magia, se vogliamo chiamarla così, per riprendere le parole di questo testo. E quindi forse insomma in un momento in cui di Magento a noi sembra essercene poca, credo un po' per tutti. proprio per il momento storico che stiamo vivendo, insomma, per le difficoltà che tutti noi incontriamo tutti i giorni, chi più, chi meno, insomma. Quindi ecco, penso che così sia un esercizio un po' da fare, forse all'inizio un po' da imporsi, quello di dedicarsi a qualcosa di manuale e comunque riuscire a ricreare un momento nella giornata in cui decidere, proprio decidere razionalmente, di abbandonare tutti i pensieri, di far finta a quel problema di non averlo, di dimenticarcelo per un attimo. E quindi insomma, magari possiamo provarci insieme e potete dirmi come va, cosa ne pensate, insomma, di questa cosa, se vi è mai capitato di aver bisogno di immergervi in un momento di magia, di lasciare andare alcuni pensieri, come ci riuscite, se la manualità vi viene incontro e se è una vostra modalità, anche vostra, insomma. Fatemi veramente sapere. Io, insomma, ho molto piacere quando ci confrontiamo su queste tematiche e infatti anche nel video scorso vi ho fatto vedere che anche io sto facendo qualcosa ai ferri, all'uncinetto. In questi giorni chi mi segue su Instagram ha visto che ho preparato le ghirlandine fuori porta, le ghirlandine invernali, insomma, e ci ho passato un paio di ore così, alla sera, attorniata da un caos incredibile di materiale e in quei momenti proprio mi distacco. e quindi, insomma, dopo c'è anche poi la soddisfazione in realtà del risultato finale, che non importa creare opere d'arte, però penso che qualcosa che viene fatto con le nostre mani abbia sempre un valore aggiunto. Se ci fate caso, è difficile anche buttare via qualcosa che abbiamo fatto. È molto più semplice gettare nella spazzatura qualcosa che abbiamo comprato. Almeno mai capita così. E d'accordo, insomma, io adesso vi lascio. Ci mettiamo in pausa un attimo. Aspettiamo che l'impasto lieviti, che con il lievito di birra comunque sarà una cosa abbastanza rapida. E poi ci vediamo dopo. Ecco qui, la focaccia è lievitata. Quindi a questo punto, che bella soffice, io metto sopra un filo d'olio, così. Ho già acceso il forno. Il forno va preriscaldato a 180 gradi. Io lo uso ventilato e a cuocere impiega 25 minuti più o meno. Poi spalmo un pochino l'olio. Adesso è stata un po' abbondante. Comunque, e con le dita faccio le fossette tipiche, insomma, della focaccia. Poi, come vi dicevo, si possono aggiungere i pomodorini, la cipolla, ma questo è più che altro in estate. Un attimo che prendo il sale, mi pulisco le mani. Quindi adesso invece metterò il sale aromatizzato. Proprio poco, perché essendo grosso, altrimenti, insomma, diventa troppo salato. Quindi, quando il forno sarà caldo, la infornerò e vi farò vedere, alla fine, una volta cotta, come si presenta. Ecco qua il gnocco cotto. È bello dorato, anche sotto. Adesso lo metto su una gratalla a raffreddare, poi pronto per la cena. Spero che vi piaccia. Fatemi sapere nei commenti se avete provato la ricetta. Ciao! Ciao!